Circa 30 tra capi di Stato e di governo sono riuniti ad Addis Abeba in Etiopia per il 37esimo summit dell'Unione Africana. Sui loro tavoli all'ordine del giorno le risposte da fornire in un continente sempre più scosso da colpi di Stato, conflitti e ribaltamenti di potere. A ciò si aggiungono le crisi migratorie e l'impatto dei cambiamenti climatici, oltre agli annosi problemi legati alle questioni sanitarie. Poche settimane fa in Camerun è stata lanciata una vasta campagna contro la malaria e il Paese è ora il primo al mondo a vaccinare in modo sistematico i bambini contro la malattia. Ma a preoccupare i leader africani ci sono anche le tensioni in Senegal con il rinvio delle elezioni e le violenze nel Congo orientale, in Sudan, nel Sahel e in Libia. L'Unione Africana ha inoltre condannato con forza l'azione militare di Israele nella striscia di Gaza. Grazie.